Sport e inclusione, un binomio vincente, consolidato e strutturato. E' stato questo l'incipit del nuovo progetto di Sport Project in collaborazione con il Comune di Bitonto, che ha vinto il bando della Regione Puglia, nato come intervento finalizzato allo sport per tutti per il 2023. Questo nuovo percorso è nato con la consapevolezza di poter dare la possibilità ai soggetti più fragili di uno sviluppo psicofisico e di un benessere vitale, ma al contempo fornire ai genitori gli strumenti necessari per la crescita sportiva dei propri figli. Siamo stati vincitori di un bando regionale che ci ha consentito di presentare un progetto di sport e disabilità. L'idea è chiaramente, l'obiettivo primario è quello di far accedere, di aumentare le possibilità di accesso delle persone con disabilità alle occasioni sportive. Sappiamo quanto lo sport sia importante sia da un punto di vista fisico che da un punto di vista psicologico e di socializzazione. Ma c'è anche un obiettivo di secondo livello, cioè quello di stimolare il territorio a promuovere servizi e percorsi ai progetti nuovi, pensiamo ai corsi di suppe e di subacqua per ragazzi con disabilità, che è assolutamente una novità per il territorio e questo devo dire con la Sport Project abbiamo trovato un terreno molto fertile, quindi questa collaborazione continua perché loro rispondono e sono molto accoglienti nei confronti dei nostri cittadini e delle nostre cittadine. Il progetto che partirà nella giornata di lunedì 30 ottobre e avrà durata bimestrale vedrà il suo corso presso le piscine comunali di Bitonto dove la Sport Project da tempo ha sposato caldamente questo tipo di iniziative volte all'inclusione. Sport Project è fatto per i progetti, è fatto per i progetti ma soprattutto i progetti che riguardano e abbracciano soprattutto le persone la fasce più debole come in questo caso il progetto di Aquability, della voglia di spendersi nel territorio per quanto riguarda proprio i ragazzi con disabilità. Siamo pronti come anche l'anno scorso, quest'anno abbiamo coinvolto all'interno della nostra struttura un centinaio di ragazzi e ormai un fiore d'occhiello dal punto di vista dell'inclusione. Aquability è questo il nome scelto per il nuovo percorso sportivo che vedrà varie attività a bordo vasca e in vasca come nuoto, acquagym, pallanuoto, snorkeling e la subacquea. Aquability è pensato proprio per questi ragazzi speciali con cui ci approcciamo per farli venire a contatto con l'acqua, un elemento dove loro cambiano completamente, dove loro rompono tutte le barriere sia fisiche che emotive. Da un inizio di prima attività natatoria, quindi un lavoro di gruppo per stare insieme, proporremo e vedremo chi riesce appunto a rispondere attività un po' più ricercate come il SAP, come l'immersione, come lo snorkeling, insegnarli magari come si mette una maschera, rendere gioioso il contatto con l'acqua anche per chi ha più timore magari. Grazie. 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 Grazie.